buonasera ragazzi incredibile ragazzi è incredibile io non non so veramente come sia possibile una cosa del genere tutti che spendono espandano buttano soldi di qua cani e porci vanno 100 milioni di qua 100 milioni di là con l'Inter guarda caso guarda caso non possono tirare fuori più soldi guarda caso guarda caso a fare il prodotto di saltato per una stronzata era praticamente fatta praticamente fatta già ci facevamo i calcoli su frattesi no invece no perché siamo l'Inter che giustamente giustamente adesso per qualche milioncino quelli 100 milioni in tre anni e no per 10 milioni in più eh no non si può non si può non si può cioè mi sono incazzato nero io io oggi sono incazzato nero quando ho letto la notizia ho detto ma non ci posso credere avevo fatto il video ieri sera l'ho programmato ho detto boh lo pubblico oggi chissà che magari succede qualcosa oh avevo il sentore avevo il sentore che qualcosa succedeva ma così veramente mai immaginavo ma ragazzi ma cioè ma cioè o siamo noi i scemi di turno perché non è possibile adesso Brozovici chiede pure la buona uscita oh ma dove cazzo siamo qua ma siamo i i pirloni d'Europa siamo noi cioè io non capisco io non capisco tutti i club arabi stanno acquistando dappertutto buttano milioni su milioni con l'Inter mica stanno a fare i calcoli adesso sembra che Sport Italia abbia detto ma l'ho detto giusto poco fa ogni 10 minuti c'è una notizia che probabilmente la Lega Saudita all'improvviso abbia bloccato questa 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 affare ma mi sembra troppo strano mi sembra c'è qualcosa dietro cioè non è possibile cioè non è possibile dai ragazzi ma di cosa stiamo parlando ma di cosa stiamo parlando ma porca miseria pure il 30 giugno mi ci devo fare incazzare è incredibile ma è pure quando a calcio non giocato cioè è assurdo io non so che dire veramente non so che dire una cosa così veramente sembra sembra pesa per il culo perché non è possibile cioè scusa 23 milioni dove che siano quelli sono miliardari no invece no qui sono 15 eh no 15 Brodwell che chiede la buona uscita ma che cazzo vuoi ma pure tu ma hai rotto le palle pure tu Brodwell ma hai pure tu rotto le palle ma stiamo scherzando 100 milioni in 3 anni vuole ancora i soldi da noi che siamo con le pezze al culo ma dai ma cioè ma non ha pesa per il culo o ci prendo per il culo i giornali e i media io veramente non lo so a sto punto dove stiamo per arrivare una pesa per il culo sembra sembra una pesa per il culo io non so più che dire ora aspettiamo vediamo fatto sta che siamo a luglio ormai e siamo ancora in questa situazione cioè ditemi voi cosa ne pensate ma io veramente sono sono incazzato no sono incazzato veramente al di là di essere davvero allibito dalla situazione perché un po' il sentore ce l'avevi ma pure è troppo strano tutto fatto vabbò prima o poi va a finire questa storia no due settimane che andiamo avanti così adesso tutto bloccato perché per qualche milione in più cioè è assurdo è assurdo comunque ragazzi ci aggiorniamo prossimamente tra l'altro oggi 30 giugno scade il contratto di Skriniar di D'Ambrosio di Gaillardini quindi tanti saluti a tutti inizierà una nuova era io mi auguravo anche di dare saluti a Brozio che c'è pure oggi ma evidentemente così non deve essere evidentemente così non deve essere perché siamo l'Inter siamo gli scemi d'Europa siamo diventati ma è una cosa allucinante presto ragazzi chiediamo al canale mi raccomando e ci aggiorniamo prossimamente vedremo un po' vedremo un po' gli sviluppi vediamo un po' gli sviluppi vediamo cosa succede domani perché ogni giorno ce n'è sempre uno a presto chiediamo al canale Forza Inter ciao grazie a tutti